ARCANGELO LEO Leo ancora si butta dentro, scarica per Bisconti, si alza Bisconti e schiaccia. Lama per Luce che prova una tripla. Emilton, si gioca lui in uno contro uno, mancano 16 secondi al termine dei 24, Emilton prova la tripla da lontanissimo, è un capolavoro in faccia da Luce. Lama, grandissima l'azione, fase di attacco. Di Nuno, raddoppiato, buono, l'assist per Ryan Amoroso. Ancora un blocco attentato però sbagliato, protetiamo Rosso, che stoppata. Amorini a tre punti, il tiro sbaglia, rimbalza ancora di Roseto però. Aspettate, vediamo Legend, si butta dentro, che schiacciata di Alex Legend. Ancora nerdy, c'è il blocco di Jefferson, buono, il passaggio, grande schiacciata. Ancora Decina